Un appuntamento importante è quello di venerdì 17 gennaio alle ore 17.30 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna durante il quale verrà presentata l'ossatura del dossier di candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura 2021 e del nuovo logo, segno identificativo, che accompagnerà la città in questo percorso. L'iniziativa è stata presentata venerdì 15 gennaio in conferenza stampa dal sindaco Massimo Seri, dall'assessore alla cultura Caterina Delbianco e dal project manager Ivan Antoniozzi. Questa candidatura, affermato Seri, nasce da un lavoro fatto in cinque anni. Siamo convinti che la cultura è un importante investimento per questa città. L'assessore Caterina Delbianco ha sottolineato che quello di venerdì sarà un momento importante e partecipato in cui sarà coinvolto il mondo associativo cittadino. Antoniozzi ha spiegato in estrema sintesi il programma della giornata. Vogliamo dare all'incontro di venerdì un carattere laboratoriale. illustreremo la griglia del progetto così che ognuno poi possa offrire il proprio contributo in maniera coerente in un progetto articolato.